ciao ragazzi un saluto da morizio benvenuti sul mio canale eccomi qua con un nuovo video che vi spiegherà come accendere la fiamma pilota sulla caldaia dove è presente questa valvola del gas adesso sono da un cliente che ha questa valvola su questa caldaia ma non vi preoccupate appena troverò un altro cliente con una valvola del gas diversa me la metterò qui sul mio canale ve la faccio vedere ancora meglio così capite subito se è presente sulla vostra caldaia allora per iniziare controlliamo che il gas si è aperto adesso aperto ma vi ricordo anche se la leva segue il tubo vuol dire che aperta se la se invece è in questa posizione quindi taglia il tubo il gas è chiuso normalmente adesso la troviamo comoda ma normalmente di solito è posta dietro qua ci mettiamo ancora davanti alla caldaia c'è un pistone sulla valvola del gas che va premuto quando lo premete fa uscire il gas dall'ugello del pilota qui c'è un altro pulsante che serve per generare la scintilla che accenderà la fiammella del pilota adesso lo vado a premere vedete fa una micro scintilla quindi per accendere la fiamma pilota bisogna premere il pistone tenerlo premuto per circa una trentina di secondi così magari se c'è dell'aria dentro la tubazione in questo modo la facciamo uscire fuori poi arrivare il gas e quando arrivare il gas dove dobbiamo premere il peso adesso cercherò di farlo con il mignolo perché con l'altra mano tengo la fotocamera adesso premo ma non si accende si vede che deve aspettare adesso si è accesa adesso cercherò di inquadrarla eccola lì vedete che è acceso adesso vi metto un po di fronte così magari si vede meglio e la fiammella è accesa adesso non dobbiamo avere fretta teniamo premuto quel pistoncino ancora per un altro po circa una trentina di secondi perché in questo modo la fiammella scalderà la termocopia che a sua volta alimenterà la valvola del gas ma la giusta alimentazione per tenere acceso solo il pilota quindi non bisogna accendere la caldaia non c'è ne frega niente perché questa operazione va fatta anche a caldaia spenta non è essenziale che sia alimentata la caldaia va alimentata quando deve partire tutta ma per la fiamma pilota vedete che a zero non è importante alimentarla adesso vogliamo il pistoncino dopo queste quattro chiacchiere vedete che la fiammella resta accesa vedete quindi direi che tutto sta andando bene non c'è più il dito sul pistoncino a questo punto accendiamo la caldaia tiriamo sulla temperatura e il bruciatore parte operazione molto semplice adesso spegniamo tutto bene ragazzi a questo punto il video è finito spero che questo video sia utile a chi si trova in questa situazione non sa come fare in descrizione vi metto i modelli di caldaie dove sono montate queste valvole del gas non disperate se no questa non è la vostra vedrete che più avanti vi metterò anche la vostra qui sul mio canale per questo vi invito ad iscrivervi sul mio canale e attivare la campanellina in questo modo youtube vi notificherà i nuovi video ragazzi il video è finito ci vediamo al prossimo video ciao ciao